Sono Ramo Pedon e sono presidente di Pedon S.P.A. Con i miei fratelli Sergio e Franco sono il fondatore e il proprietario di Pedon S.P.A. leader per quanto riguarda i legumi, cereali e semi oleosi. Collaboriamo con Aldi sulla linea Natura Felice, legumi e cereali di agricoltura biologica 100% di origine italiana. Sono Antonio Borrelli, sono agronomo e mi occupo delle filiere Pedon. Tutto nasce dal campo, dalla terra. Tra le filiere Pedon spiccano le filiere del biologico, dei prodotti biologici, che rispondono ad un protocollo di coltivazione molto stringente e che danno origine a prodotti certificati. Abbiamo filiere sparse in tutta Italia. Questo significa selezionare le aree geografiche più adatte, i terreni più adatti alle singole specie coltivate. Sono Fabio Dallavalle, direttore di stabilimento Pedon. Il prodotto dopo il raccolto viene prepulito per eliminare le difettosità più importanti e successivamente arriva in stabilimento in dei grandi sacconi. Il passaggio successivo è la pulizia e selezione che viene eseguita nella nostra torre di pulitura, un impianto a tre livelli che ha l'obiettivo di selezionare e eliminare le difettosità dal prodotto. In questo modo riusciamo ad avere un prodotto al confinzionamento perfetto. Questo ci permette di avere uno standard di qualità e di sicurezza alimentare. Questi standard ci sono riconosciuti dalle diverse certificazioni che otteniamo a livello internazionale. La collaborazione con Aldi ha un ingrediente fondamentale. La condivisione dell'obiettivo di offrire al consumatore il meglio. Noi ci mettiamo alla nostra competenza Aldi, la capacità di essere vicino alle persone. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!